Allora ne approfitto per salutare la professoressa Lucini a speciale. Ciao! Saluto anche il professor Philippe Guerin da Parigi, grazie mille. Eccoti Philippe, come stai? Non c'è male, e tu? Bene, grazie. Ringrazio il nostro conferenziere Fabio Massimo Bertolo, che è dottore di ricerca in italianistica. È stato docente di filologia italiana per dieci anni all'Università di Cassino e docente anche di storia del libro, storia dell'editoria e discipline bibliologiche presso le Università di Siena, Rezzo, Urbino, Verona. Ha pubblicato vari contributi sul Castiglione, l'Aretino, il Bembo, credo che stasera ce ne parlerà. E da oltre 25 anni si occupa di antiquariato librario per le principali case d'asta, tra cui Cristis e Finarte. Non voglio rubargli altro tempo, lo ringrazio nuovamente per aver accettato il nostro invito e gli cedo la parola. Allora, grazie della presentazione e grazie dell'invito, Carla. Diciamo che a corredo del mio breve curriculum vitae, insomma breve o lungo a seconda dei punti di vista, segnalo che ha una formazione filologica, sia la laurea che il dottorato era in filologia italiana, centrata soprattutto sulla tradizione dei testi a stampa, quindi la textual bibliography per gli inglesi, la bibliography materiale per i francesi e quant'altro. Quindi quella era un po' la prospettiva da cui mi sono mosso. Segnalo questa cosa perché poi il mio approccio nelle case d'asta, che risale oramai al 96, quindi sono 27 anni che il lavoro ho iniziato con la Cristis, era dovuto proprio alla mia esperienza come studioso di storia del libro, a stampa soprattutto, in quanto in quel momento la Cristis in Italia, a Roma, la fattispecie era lì la sede, che cercava un esperto di libri antichi, cosa che io non ero, ma ero esperto nella misura in cui ovviamente li sapevo descrivere e catalogare, quindi sono entrato un po' dalla porta di servizio per quanto riguarda il mondo delle aste, del tutto ignaro di cosa fosse questo mondo e questo universo, forte però della mia esperienza universitaria solida, che ovviamente quando racconto queste vicende, spesso nei master, i giovani studenti alle prime armi, i giovani che si stanno formando, sottolineo particolarmente perché è un mestiere, questo del perito, degli esperti delle case d'asta, che è profondamente cambiato negli ultimi 20-30 anni, ora occupano questi posti prevalentemente persone che hanno avuto un percorso simile al mio, cioè direi fortemente accademico, con un'esperienza universitaria, gran parte dei miei colleghi hanno un dottorato o una specializzazione, sono per lo più storici dell'arte, insomma questo è un dato di fatto, che sicuramente la formazione come filologo e gli studi e poi contemporaneamente l'insegnamento mi hanno giovato moltissimo proprio nell'intraprendere questo mestiere, che vi ripeto è tutto casuale, è capitato come spesso succede nella vita, la vita è fatta di sliding doors, e quindi nel mio caso è stato abbastanza casuale finire in una casa d'aste e abbandonare progressivamente poi l'università, perché a dieci anni a Cassino sono stati lunghi, importanti, ma poi a un certo punto ho messo un punto anche a questo aspetto, insomma ho deciso io, in parte ho condiviso le scelte con la mia famiglia e ho abbracciato poi insomma quasi completamente, anzi completamente, assolutamente questo tipo di attività. Un'attività che come appunto segnalavo nel titolo di questa nostra chiacchierata, insomma l'interpreterei come chiacchierata anche perché come vedrete si centrerà, adesso cerco di condividere lo schermo, sarà particolarmente incentrata sugli esempi, perché è la cosa forse più evidente, più stimolante, anche più curiosa sicuramente, attraverso la quale farvi vedere che cosa offre il mercato, insomma quindi cosa passa sul mercato, quantomeno in Italia, stiamo parlando sempre del mercato italiano. Quindi questo tipo di esperienza, di esperienza filologica, mi ha consentito di assumere uno sguardo da un altro pianeta. Sguardo da un altro pianeta è la citazione di un articolo molto importante del mio maestro, di quello che io considero tutti gli effetti maestro, anche se non ho studiato con lui, si chiamava Connor Fai, Connor Fai è stato uno studioso di textual bibliography, bibliografia testuale importante, che ha introdotto in Italia più o meno alla fine degli anni Ottanta, alla metà degli anni Ottanta, una disciplina che era sostanzialmente nuova, che era appunto la bibliografia testuale. E l'ha introdotta per il tramite poi del professore con cui mi sono laureato, Pasquale Stoppelli, che all'epoca curò per il mulino una raccolta di saggi, di Connor Fai e di altri autori, proprio per introdurre le problematiche legate alle tradizioni a stampa in epoca rinascimentale, che poi sono stato l'oggetto dei mie tesi, sia di laurea che di dottorato, quindi le tradizioni a stampa. Ecco, su questo sguardo da un altro pianeta, nel caso suo era l'Inghilterra, il mondo anglosassone, e quindi la tradizione anglosassone, che era una tradizione fortemente radicata sugli studi bibliologici, proprio perché la tradizione del loro autore più importante di Shakespeare era una tradizione a stampa, quindi non è una tradizione manoscritta. E Connor Fai cercava di, come dire, trasmettere, ha cercato di trasmettere una serie di metodologie di lavoro da applicare alle edizioni a stampa, anche ovviamente italiane, insomma, dove il discorso si faceva molto più ampio e complesso, perché, insomma, sappiamo benissimo che la tradizione letteraria, ma culturale, se vogliamo, insomma, a tutti i livelli, tra 4 e 500 passa attraverso la produzione a stampa italiana, veneziana, e non solo, insomma, comunque dalla seconda metà del 400 fino alla seconda metà del 500, è l'Italia a dettare le regole nella produzione libraria nel mondo, proprio perché detiene sicuramente la fetta più alta di mercato, si potrebbe dire con termini moderni, e quindi la prospettiva di studiare il libro a stampa italiano era sicuramente stimolante. Lo sguardo da un altro pianeta, invece del titolo della mia chiacchierata, che adesso inizierò, ma inizierò facendovi vedere finalmente un po' di immagini, perché poi sono tante, quindi cerco poi di concentrarmi su quelle, è lo sguardo di chi proviene appunto dal mondo dell'antiquariato, cioè dal mondo dell'antiquariato, in senso stetto io non sono un libraio antiquario, sono un perito di una casa d'asse, c'è una sottile differenza, in quanto svolgiamo più o meno lo stesso mestiere, nel senso che sia io che i miei colleghi librai antiquari abbiamo a che fare con libri o manoscritti, che dobbiamo valutare e periziare, la differenza è nella fase finale di questo processo, io li pongo in asta, quindi semplicemente li offro al mercato e alla vendita, miglior offerente in qualche modo, il libraio antiquario invece rischia improprio, è un'impresa per lo più spesso individuale, insomma sono commercianti a tutti gli effetti, però svolgiamo sostanzialmente la stessa attività. Quindi l'attività di esperto e perito di una casa d'asta è quello che ho fatto in questi 26 anni, mi ha consentito di avere uno sguardo su un mondo molto vasto, che è quello del collezionismo, oggi lo centrerò prevalentemente, visto insomma la natura anche del seminario, presumo insomma delle persone presenti qui con noi, con noi tutti, tra noi tutti, lo centrerò soprattutto sulle tradizioni manoscritte, quindi su una serie di esempi di autografi e manoscritti che sono... Sento qualcun altro che parla, no più che altro io ho il vocione, però magari... Eccoci, forse era intervenuto. Quindi caleremo il discorso soprattutto sulla tradizione manoscritta, su esempi di vendite all'asta di codici e manoscritti di vario genere, probabilmente in mezzo forse è scappato un paio di libri, ma insomma semplicemente perché sono emblematici per qualche discorso che vorrei affrontare anche sui libri. Però ecco, la carrellata di esempi di quello che offre il mercato e quello che il mercato può offrire alla ricerca, perché poi il senso di questa operazione è anche culturale, insomma il senso che volevo trasmettere a voi, che siete ovviamente addetti ai lavori, insomma quindi addetti ai lavori, presumo filologi o curatori di edizione e quant'altro, è che tenere un occhio, uno sguardo sul mercato antiquario è sempre importante, perché dal mercato antiquario provengono testimoni altrimenti sconosciuti, testimoni di cui si sono perse le tracce, testimoni che possono anche modificare sostanzialmente il nostro lavoro di ecdotica e via dicendo. Quindi diciamo il mercato antiquario, che è difficile da monitorare, ma non impossibile, perché oramai gli strumenti sono sempre più efficaci, gli strumenti che ci offre la rete, internet, ci consentono in qualche modo, ci consentono di indagare quello che offre il mercato, almeno cercare di avere delle tracce, delle indicazioni, beh insomma io direi che questo sguardo su questo tipo di mondo, per la mia personale esperienza, che è un'esperienza un po' duplice, sicuramente una sorta di bifrontalismo è quello che mi caratterizza, perché da una parte sono profondamente uno studioso e ho dedicato anche molti anni sia alla docenza e quindi all'insegnamento sia alla ricerca, insomma tutta la mia vita precedente, come dico adesso, sono prestato al mercato, quindi ovviamente lo scopo delle mie ricerche prevalentemente è vendere questi oggetti, perché poi è quello con cui campo io e parte dell'azienda, però ecco questa doppia e duplice natura che mi riconosco mi consente di accorgermi da filologo di quanto sia importante il mondo dei collezionisti e viceversa studiando questi oggetti di capire quanto possono produrre e apportare alle nostre ricerche filologiche, letterarie e quant'altro. Ok, si vede? Si vedono le... Si, benissimo. La prima? Perfetto, perfetto, perfetto. Allora questa è l'introduzione. Allora, guardate, cominciamo, vi ripeto, sono più di una quarantina di slide sulle quali ovviamente poi spero alla fine, insomma se c'è curiosità, insomma, o anche nel mentre ovviamente, abbracciano tutti i periodi, tutti i secoli e quindi veramente partiremo da... partiremo no perché insomma sono nell'ordine cronologico in cui più o meno ho venduto questi oggetti, questi lotti, come si dice tecnicamente, però partono dal 300 e arrivano fino al pieno 900, insomma, fino al pieno 900, quindi il ventaglio è molto, molto, molto vasto in sostanza. Ecco, questo è un primo esempio, ma un primissimo esempio nel 97, questa era forse la mia seconda asta che svolgevo alla Cristis in questo caso. Ecco, io passerò proprio il rassegna lotto per lotto con una brevissima descrizione. In questo caso è Gabriello Chiabrera, poeta secentesco, barocco, penso, immagino, molti di voi conosceranno, oppure certamente meno noto di altri autori. Queste sono le canzoni di Chiabrera nell'edizione di Genova, la prima edizione dell'86-88, sono tre volumi in quarto. La fitta serie di correzioni che avevo notato su questo esemplare, autoriale, soprattutto nei primi due volumi, queste postille o glosse ovviamente a me apparivano da filologo, poi in quegli anni oltretutto nel 96-97 insegnavo a Cassino questo, quindi avevo abbastanza pratica e pratica quotidiana, insomma, di postillati o comunque di interventi d'autore. Erano lezioni che non potevano essere correzioni, revisioni, né note o commenti, ma insomma a me sembravano fortemente attribuibili l'autore. Non conoscevo la mano di Chiabrera, inizialmente non la conosco neanche adesso, però poi con un piccolo approfondimento, anche chiedendo a colleghi universitari, perché poi nel corso degli anni la fortuna di svolgere questo mestiere tra i due fronti, se vogliamo, è stata anche quella di avere a disposizione una rete di docenti, di colleghi universitari e di studiosi che mi hanno poi fornito utili informazioni nello scambio reciproco, beh, in sostanza mi ha consentito di capire che questo era appunto l'esemplare di mano di Chiabrera con le postille di Chiabrera in previsione di una seconda edizione successiva mai realizzata perché lui muore prima. L'esemplare in questione, come vedete, era stimato 4-5 milioni di vecchie lire, stiamo parlando del 97, viene venduto per 6 milioni e 2. Tenete conto che però un'edizione del genere senza le postille di Chiabrera è un'edizione che all'epoca poteva valere 200 mila lire, 200-300 mila lire, quindi il rapporto è, questo lo sottolineo anche per, come dire, spiegare nel corso di questa carrellata i risvolti economici che ha anche il surplus, come dire, di studio filologico che uno aggiunge a questo mestiere, cioè al mestiere di perito. Allora, attribuire in questo caso l'esemplare all'edizione a Chiabrera con le sue postille ha consentito di vendere un'edizione che poteva essere un anonimo postillato dai 200-300 mila lire a 6 milioni e 2. Insomma, un bel salto nell'interesse in questo caso sia del venditore sia ovviamente della casa d'aste che, come sapete, noi percepiamo una commissione da chi vende e da chi compra, insomma, almeno se qualcuno ha mai frequentato le vendite all'asta, insomma, e quindi, ovviamente, quanto maggiore il guadagno, quanto maggiore l'aggiudicazione, tanto anche migliore il risultato per la casa d'aste e per il venditore. In questo caso, il valore aggiunto dato dalle postille è un valore aggiunto notevole perché, ripeto, insomma, da 200-300 mila lire si è passato a 6 milioni. L'esemplare in questione è andato alla biblioteca di Genova, adesso mi sfugge, ma insomma, alla biblioteca universitaria mi pare di Genova, dove c'è un fondo che abbrera e dove ovviamente è stato utilizzato, presumo, per edizioni successive, proprio perché la revisione era revisione di pulbo dell'autore, insomma, e quindi vale come una testimonianza fotografo, in sostanza. Questo, alcuni, su alcune cose magari sarà un po' più veloce, questo è Agnero Filenzuola, pure questo poeta del XVI secolo, fiorentino, è un manoscritto cartaceo interessante, originario, originariamente di 142 carte, una parte è stata e spunta, ma c'è un poemetto inedito, questa favola di Daphne, 69 ottave, una carta 7 retto a 24 retto, piuttosto interessante perché è tutto totalmente inedita e questo è l'unico testimone che la tramandava, che la tramanda e che la tramandava. Quindi, come vedete, una stima tra i 16 e 18 milioni di vecchie lire, sempre venduta a 15 milioni, anche questo è andato a Firenze, alla Nazionale. Come vedrete, nella maggioranza di questi casi, almeno nella gran parte di questi casi che vi presenterò, moltissimi sono gli acquisti da parte dello Stato, quindi lo Stato è particolarmente attivo, lo Stato per un periodo più intensamente, poi ha avuto ovviamente i soliti momenti di crisi economica, adesso è ritornato ad essere attivo, però molti di questi acquisti sono poi, per fortuna nostra, io dico di tutti, sia di italiani che di studiosi che di letterati o filologi, sono finiti in biblioteche pubbliche e quindi sono di pubblica frizione. Questo è anche uno dei grandi vantaggi del collezionismo, quando il collezionismo si coniuga all'interesse culturale e se vogliamo nel caso delle aste alla vendita pubblica, quindi al fatto che ci possa essere una partecipazione dello Stato e quant'altro. Qui saliamo un po' più di livello e saliamo anche di prezzo, ovviamente perché ci troviamo di fronte a un postillato di tasso. Jacopo Mazzoni, La difesa della commedia di Dante, un'edizione della fine del Cinquecento, anche qui un'edizione che di per sé poteva valere all'epoca, siamo nel 98, 300-400 mila lire, non di più, forse anche qualcosina in meno, insomma, è un testo critico sulla commedia di Dante, ma qui abbiamo le postille nella prima parte, quindi soltanto nel proemio, per cui sarà, vado a memoria, che sono passati un po' di anni, una ventina di pagine fittamente postillate da tasso, quindi non tutto il volume, ma soltanto quella parte, però è pur sempre la mano di tasso e quindi parliamo di una cifra, come vedete, molto consistente, 120 milioni di vecchie lire, 125 milioni è stata l'aggiudicazione, finito alla Biblioteca Nazionale di Napoli che come appunto molti di voi sapranno se hanno mai studiato tasso, al fondo tassiano più importante ed è andato ad aggiungersi ai tanti postillati, ai tanti autografi tassiani che possiede la Nazionale di Napoli, è stato studiato poi all'epoca dal giovane Emilio Russo, che è stato il mio collega all'università, un po' più giovane di me, insomma ci siamo un po' prima del dottorato, ho fatto un po' prima io il dottorato di lui, ma insomma poi è diventato un grande esperto di tasso e venne studiato all'epoca da lui, mi pare pubblicò un articolo, ma insomma è interessante perché le postille poi rifluiscono nei discorsi del poema eroico di tasso, quindi queste postille rifluiscono, ed era un esemplare di cui qui, come accenno rapidamente, proveniva dalla biblioteca falconiere di Roma, se ne perdono le tracce alla fine del XIX secolo e come vedete salta fuori un secolo dopo, cioè alla fine dell'Ottocento non si sa più che fine faccia, ma si conosceva l'esistenza di questo postillato, adesso nel 98 risalta fuori e per fortuna appunto salta fuori alla Cristis e viene venduta alla Nazionale di Napoli. Ok, qui siamo Niccolò Tommaseo, quindi ci spostiamo come vedete tra 8 e 900, ci spostiamo di secoli in secoli, ma perché? Questo che offre il mercato ogni asta è un fenomeno a sé stante, io ne organizzo oramai dalle 3 alle 4 all'anno, all'epoca ne facevamo 2 e in ogni asta si costituiva una biblioteca di libri e manoscritti che nel giro di una tornata di vendita, quindi di un pomeriggio, di una serata, venivano alienati per poi ricostituirsi di sole e ogni biblioteca aveva ovviamente fondi di tutti i tipi. In questo caso era un importante manoscritto Le preghiere, questo è il testo di Niccolò Tommaseo, venduto a 28 milioni di vecchie lire, insomma anche questo interessante per ricostruire questa edizione come testimone. Poi abbiamo, questo è un manoscritto saltiamo, vedete, molto molto indietro del tempo, metà del Quattrocento, è una classica cronaca cronaca veneziana con le varie casate, le varie famiglie, gli stemmi, gli stemmi molto rudimentali come vedete insomma non è non è il punto di forza di questo manoscritto la parte iconografica e decorativa sono abbastanza ronzi di per sé è un manoscritto cartaceo però interessante perché è molto ampio contiene la cronaca le casate veneziane le relazioni sull'isola di Creta e Salonico insomma un importante testimonio della storia come segno qui veneziana quattrocentesca eppure qui rispetto alla recenzio che ha fornito Carile sulla cronatistica veneziana si colloca in un determinato periodo insomma è un manoscritto questo non è andato in una biblioteca pubblica se non ricordo male ad un collezionista privato però certamente interessante per ricostruire e le tracce ci sono perché poi restano restano in rete le tracce del passaggio di questi manoscritti un'altra possibilità che è fornita un po' a tutti gli studiosi appunto se frequentano cataloghi antiquari o vendite all'asta è quella comunque di domandare alla casa d'asta di essere messi in contatto col compratore o col venditore di questi lotti di questi autografi di questi manoscritti che più delle volte è disponibile a farli studiare insomma per mia personale esperienza forse perché il mio approccio era un approccio appunto di studioso ma per mia personale esperienza in 27 anni non ho quasi mai trovato nessun collezionista così avido del suo oggetto da non vorrelo condividere con altri studiosi per la semplice ragione che la condivisione è anche un arricchimento del valore dell'oggetto stesso cioè nel momento in cui uno studioso lo studia ne approfondisce pubblica e quant'altro insomma l'oggetto accresce il suo valore insomma quanto più se ne sappia e quindi devo dire ho trovato sempre massima disponibilità da parte dei collezionisti a mettere a disposizione appunto i loro acquisti o i loro possedini i loro opere qui siamo alla metà del XIV secolo invece è un volgarizzamento di zucchero bencivenni nel 2001 mi è stato presentato per l'asta è un manoscritto minato su pergamena di 118 carte era lacunoso purtroppo non era completo era il volgarizzamento dell'istauro ancienne c'è un colofono una datazione 1308 ma forse leggermente successivo insomma poi da studi fatti questa piccola gotica era molto bella aveva 140 capirettera miniati 5 storiati 2 medaglioni con questi guerrieri duellanti questa è la pagina adesso la pagina ovviamente la foto non rende bene questa foto un po' sfocata non rende bene ma era un manoscritto perché a menascio di pregio sicuramente insomma con un corredo anche illustrativo quindi vedete un esempio insomma all'altezza del manoscritto all'altezza dell'opera Zuccoro Bencivenni è un volgarizzatore toscano che è conosciuto si conosce abbastanza bene e il manoscritto in questione alla prima proposizione in asta non è andato venduto non è andato venduto ma poi successivamente è stato riproposto e siamo riusciti con dei vari passaggi è riuscito è riuscito a entrare in una biblioteca credo alla Maruscelliana di Firenze insomma è stato poi studiato mi hanno mandato l'edizione critica fatta sulla base di questo di questo testimone piuttosto importante e è qui insomma devo dire anche questo un importante tassello sono manoscritti che da un certo punto di vista attirano il mercato del collezionista perché come vedete insomma si presta per il corredo illustrativo per l'eleganza e la bellezza insomma il piacere dell'occhio del bibliofilo chiamiamo così però di contro sono anche manoscritti molto importanti perché insomma siamo volgare trecentesco toscano quindi è qualcosa che attribuisce e cresce le nostre conoscenze sia della tradizione del testo in sé per sé sia in generale proprio della conoscenza del volgare trecentesco toscano serve a vari livelli e da vari punti di vista quindi anche questo poi dopo vari passaggi so che è arrivato alla maluccelliana però rimase invenduto quindi ha avuto poi un percorso diverso ma insomma diremmo il merito sicuramente della casa d'asta è quello di averlo posto all'attenzione perdonami se ti interrompo perdonami se ti interrompo solo un attimo so che ci sono persone in sala d'attesa ma io non le vedo più probabilmente le vedi tu le vedo io? sì perché ti ho assegnato per la condivisione ah allora aspetta perdonami se riesco a partecipanti chat io non ho molta pratica quindi sala d'attesa sì invito vado invito presumo vedi se c'è qualcuno in sala d'attesa e ammettilo sì ammesso perfetto basta ok grazie chi non è arrivato in tempo purtroppo ingresso in corso sì grazie ancora no no figurati figurati insomma denuncio tutta la mia inesperienza insomma lo uso a livello basic poi allora vediamo se riusciamo ad andare avanti eccolo qua ecco nella stessa asta quindi in un'asta possiamo io lavoro poi su manoscritti di tutte le epoche questo poi direi sicuramente il lavoro che faccio e che ho fatto in questi 26 anni è stata una palestra straordinaria da un punto di vista proprio pratico perché nella stessa vendita io ho schedato il manoscritto trecentesco sulla base delle mie conoscenze ovviamente sia paleografiche che filologiche ma sempre magari col supporto di cari amici e nella stessa asta poi avevo sotto mano un manoscritto di Elsa Morante quindi dovevo ovviamente barcamenarmi e dare una descrizione che fosse essenziale perché come dire la scheda di un catalogo d'asta è un è un elemento abbastanza stringato ed essenziale semplicemente una presentazione però che fosse anche accattivante al punto giusto in quanto come vi ripeto l'obiettivo è stimolare l'acquisto e la vendita di questi oggetti non è non è tanto però tenendo conto di vari elementi per cui dal trecento del manoscritto del volgarizzamento di Bencivenni nella stessa asta avevo una serie di manoscritti moderni uno di questi era un manoscritto autografico firmato dello Schall Andaluso che è una delle raccolte importanti della Morante il lungo racconto questa è solo la parte del racconto relativo allo Schall Andaluso che viene inserito all'interno del volume di Enaudio monimo del 63 questo ha una stima tra i 25 e 30 milioni di lire viene venduto a 31 milioni oppure questo era ricco di annotazioni insomma basta questa pagina vedere la ricchezza e la ripiezza della revisione del testo e dunque come potete capire insomma per gli studiosi della Morante sia del racconto nella fattispecie ma in generale della Morante era ovviamente un testimone preziosissimo questo era in mano al curatore editoriale insomma c'era una serie di percorsi questo ed altri manoscritti del Novecento mi provenivano dal mondo editoriale dove erano rimasti insomma come spesso accadeva nelle mani di questi curatori quindi gli eredi poi l'avevano presentato questo anche è andato a finire alla Biblioteca Nazionale di Roma dove c'è il fondo più importante dedicata alla Morante e quindi insomma anche questo un tassello utile agli studiosi per per conoscere e approfondire insomma in questo caso allora c'ho un altro in sala d'attesa via ammesso Alberto Moravia qui siamo invece non un manoscritto un dattiro scritto un dattiro scritto completo del disprezzo Bonpiani 1954 qui vedete anche la cifra insomma poi vi farò una piccola osservazione vi faccio vedere un terzo di manoscritto novecentesco sempre la stessa asta del volgarizzamento trecentesco in questo caso è Il disprezzo uno dei romanzi di Moravia se vogliamo non forse il più celebre però abbastanza importante hanno tratto un film importante 50-60 milioni venduto a 61 milioni questo oltretutto era un dattiro scritto con correzioni autografe ma con un capitolo allora anche un'altra persona in sala d'attesa un capitolo tredicesimo tagliato dalla versione definitiva di estremo interesse proprio perché è centrato su delle riflessioni politiche quindi al personaggio principale rapporto al comunismo insomma una sorta di autocensura che Moravia aveva accettato di questo di questo su questo sul disprezzo però un capitolo piuttosto interessante perché riguardava il rapporto del personaggio al comunismo e quindi di riflesso come specchio e come specchio anche dello stesso Moravia nei suoi rapporti con il comunismo in questo caso è stato acquistato dall'ultima moglie di Moravia che si chiama Carmeliera che è stata anche una scrittrice Carmeliera importante acquistato da lei per depositarlo nel fondo Moravia della casa Moravia che è qui a Roma a Lungotevere quindi fa parte poi entrato a pieno diritto nel corpus della fondazione Alberto Moravia appunto nella sua casa museo a Lungotevere a Roma e dunque ovviamente disponibile agli studiosi in questo caso è stata la stessa moglie a sobbarcarsi dell'onere finanziario diciamo così di acquistarlo per poi donarlo alla fondazione ecco questo era il terzo manoscritto poi faccio un passo indietro sempre nella stessa asta Mario Soldati le lettere da Capri anche questo questo sì probabilmente considerato il masterpiece di Mario Soldati forse è la sua opera più importante Mario Soldati poi è uno scrittore eclettico anzi un intellettuale eclettico che spazia a 360 gradi ha spaziato in tutti i campi dal cinema alla fotografia appunto alla letteratura questo è il manoscritto completo di lettere da Capri con tutte le sue revisioni correzioni proprio è veramente il testo il testo base insomma per qualsiasi edizione 24 pagine poi di appunti schemi preparatori una tavola cronologica delle stesure era proprio tutto il il mondo creativo di soldati intorno a quest'opera in questo caso è stato acquistato da un collezionista ma un collezionista privato che l'ha messo subito a disposizione degli studiosi e questo pure so per certo che è stata fatta un'edizione critica di lettere da Capri sulla base di questo manoscritto che era comparso in asta acquistato da un privato ma lo stesso privato a fine asta mi ha detto io l'ho comprato per una serie di ragioni adesso sarebbe lungo spiegarlo ma quasi affettive è un ricco avvocato romano non sono un collezionista mi ha spiegato non sono uno che lo sfoglierà di notte e ne comprerò mai altri manoscritti ma per una serie di ragioni avevo bisogno e volevo comprare questo se lo poteva permettere però sin da subito mi ha dato il suo biglietto da visita e mi ha detto questo è a disposizione di qualsiasi studioso quindi qualsiasi persona chiunque lo chieda lei sappia sappia dargli il mio numero e in effetti così è stato perché poi i studiosi di soldati mi hanno chiesto indicazioni e so che lui l'ha ovviamente messo a disposizione per studiarlo ma lo voleva possedere diciamo in qualche modo la riflessione che volevo fare con voi da un punto di vista economico e commerciale che quindi mi fa scivolare indietro è farvi capire come un manoscritto del 300 su pergamena quasi completo con le sue miniature è un oggetto che sul mercato agli inizi del 2000 ma adesso non è cambiato molto anzi forse è peggiorata la situazione vale 50 milioni di vecchie lire ovvero vale meno del dattilo scritto di Moravia che ne vale 60 di milioni faccio delle riflessioni un po' all'ingrosso un po' un po' grossolane però è per farvi capire perché è una cosa che poi cerco di trasmettere soprattutto ai più giovani gli studenti il mercato è fatto il mercato anche di questi oggetti è fatto dalla domanda e dall'offerta se la domanda per il manoscritto trecentesco miniato non è così alta così forte così intensa così consapevole anche il valore di quell'oggetto che ai nostri occhi magari istintivamente può sembrare ovviamente più prezioso di un dattilo scritto di Moravia il valore di questo oggetto si colloca a questa altezza a 50 milioni e non l'ho venduto all'epoca è stato venduto poi con vari passaggi successivi ad una cifra forse anche un po' più bassa dei 50 milioni di contro in un'asta pubblica dove ci sono vari partecipanti e dove l'interesse verso questi manoscritti del Novecento è forse decisamente più alto rispetto al manoscritto trecentesco miniato io in quell'asta potevo tranquillamente vendere a più di 30 milioni una parte perché questo è parziale cioè è un brogliaccio dello scialle andaluso della Morante potevo vendere un dattilo scritto molto fitto di correzioni di Moravia a oltre 60 milioni e potevo vendere appunto il manoscritto di Mario Soldati ha 36 e passa milioni quindi il valore degli oggetti anche la loro importanza che noi diamo storico e culturale in questo caso rispetto al mercato è particolarmente livellato o meglio è determinato da alcune regole che sono le leggi di mercato e non sono le leggi forse che insomma in qualche modo un po' istintivamente noi immaginiamo debbano controllare questo tipo di mondo quindi è presumere che insomma la rarità e l'importanza di un manoscritto trecentesco debba essere incommensurabilmente più più valutata rispetto ad un dattilo scritto questo non accade perché si basa sulle leggi di mercato questo è un manoscritto invece ho fatto vedere l'edizione a stampa e non avevo la foto del manoscritto ma il manoscritto delle leggi renane manoscritto autografo di Pirandello perché Pirandello come forse diversi di voi sapranno nasce come nasce come poeta lui quello voleva fare fondamentalmente almeno quello inizia a fare durante i suoi studi in Germania pubblica poi a Roma in 1895 le leggi renane questo era il manoscritto autografo che conteneva una versione antecedente rispetto a quelle note del più importante libro in versi Pirandelliano insomma poi come ben sappiamo è un esperimento questo della poesia che Pirandello forse per nostra fortuna abbandona per favorire poi tutto il resto tutto quello che ci ha dato dopo in sostanza però ecco è intesa perché anche qui dal mercato antiquario esce fuori un manoscritto importante di Pirandello Ungaretti questo pure testo poetico importante la stima 25-30 milioni venduta a 39 milioni ci sono alcuni autori del novecento italiano che riscuotono il maggior interesse da parte anche dei collezionisti in questo caso questo manoscritto è andato in mano a un collezionista non è andato in una biblioteca pubblica manoscritto autografo firmato sette pagine sette pagine su queste sfizza con una dedica a Marta a Marta Rue che era anche l'amante di Apollinaire insomma condivisa con Ungaretti era un testo importante un testo che si conosceva perché le liriche poi finiscono nella guerra queste liriche raccolte ma in realtà qui sono in una forma diversa in una lezione differente ecco queste sono sfumature che ovviamente da filologo come sono io prestato al mondo dell'antiquariato potevo cogliere cioè è evidente che quando ho descritto come in questo come in altri casi manoscritti più o meno importanti la mia preoccupazione era sempre confrontarli con la lezione che noi abbiamo nota con quella che abbiamo pubblicata con le ultime più recenti con le edizioni critiche è evidente che insomma non è un lavoro che tutti i periti e gli esperti di Casaraste possono fare insomma lo posso fare perché avevo degli strumenti che mi ha fornito l'università e il dottorato e tutti questi strumenti li ho messi a frutto proprio per valorizzare poi al massimo se potevo affermare che le lezioni erano diverse perché ovviamente l'ho confrontata con altri con dei testimoni e questo ne ha cresciuto il valore da un punto di vista commerciale ma moltissimo dal punto di vista culturale ha stimolato l'interesse sia di collezionisti che poi di biblioteche pubbliche ecco questo per sottolineare ancora per l'ennesima volta insomma il ruolo che hanno queste ricerche ecco questo è un'edizione a stampa una del paio dell'edizione a stampa ve l'ho messa come curiosità ma in realtà semplicemente interessante da un punto di vista filologico perché questa edizione a stampa dipende da quante esperienze abbiate con il 500 a stampa sono edizioni che venivano stampate su carta azzurdina cioè avveniva una colorazione della carta nel momento in cui si realizzava proprio l'impasto base dagli stracci dalla lavorazione eccetera questi esemplari su carta azzurrina erano esemplari collocati alla fine della tiratura si entra nel tecnico non posso sicuramente dilungarmi perché dovremmo stare a lungo a spiegare però il fatto che vengono collocati alla fine della tiratura di un libro consente a questi esemplari di tramandare una lezione che è estremamente valida cioè è l'ultima lezione la conclusiva da un punto di vista filologico è la più attendibile perché erano le copie finali erano le copie tirate in un numero ridotto in una tiratura di 500 mille copie su carta azzurra se ne potevano stampare 20 30 erano la tiratura limitata quella che noi assolutamente concepiamo come tiratura limitata esisteva già nel 500 se l'era sappiamo quasi per certo inventato lo stesso Aldo Manuzio era il primo ad utilizzare la carta azzurra differenziavano una tiratura principale erano esemplari copie speciali ma riportavano la lezione conclusiva perché appunto pure qui sappiamo che ci sono delle correzioni in fase di stampa questi tirati su carta azzurra sicuramente sono i più attendibili quindi da un punto di vista filologico sono le copie più interessanti cioè rimangono le copie più interessanti come anche gli esemplari stampati su pergamena lo stesso discorso oppure questi tirati all'ultimo alla fine e recano le lezioni conclusive dei testi e dunque rappresentano da un punto di vista filologico un importante tassello nella ricostruzione in questo caso sono anche libri belli perché si presentano con questo azzurro vivace trascuriamo questo è un aspetto musicale sono delle partiture originali di Niccolò Paganini originali inedite qui siamo con D'Annunzio oppure qui il discorso sarebbe un po' lungo e complesso ma insomma di D'Annunzio io penso che in 26 anni avrò venduto un'intera scaffalatura di autografi e libri ma forse anche solo di autografi cioè non c'è Asta e ormai ne ho contate forse più di 200 nella mia vita in cui non ho venduto decine di lettere autografi di tutti i tipi di tutte le lunghezze voi sapete che hanno conteggiato l'impegno medio giornaliero D'Annunzio scriveva una cosa come 70-80 lettere mediamente quindi un giorno ne scriveva 120 insieme a scrivere lettere produceva testi e quant'altro insomma era è sicuramente stato il principe anche per i collezionisti insomma il principe dei creatori dei facitori di letteratura del novecento è una cosa strana ma neanche neanche troppo è che il collezionismo di D'Annunzio non è mai morto e non muore mai ed ha una capacità di rigenerarsi nelle nuove generazioni incredibilmente straordinaria è una cosa che mi ha profondamente stupito anche perché insomma non è che le memorie scolastiche di D'Annunzio o comunque del capitolo che in quinto anno si dedica a D'Annunzio credo possano segnare molto le menti dei giovani però poi succede un fenomeno strano che tra i 20 25 e 30 anni fioriscono tanti collezionisti giovani di D'Annunzio che si appassionano per qualche strano motivo motivi loro e devo dire insomma nella mia esperienza è l'unico autore novecentesco veramente ancora proficuo ancora ricco di nuovi collezionisti questo è un esempio questo grande manoscritto della ville morte la città morta in francese realizzato dal suo traduttore ma in realtà poi come al solito D'Annunzio ha mentito dicendo che lo ha scritto lui ma insomma fa parte del gioco della promozione di D'Annunzio ancora un garetti ma lo passerei questo è un interessante testimone del De Bello Gallico quattrocentesco un bel manoscritto su pergamena direi non decisivo non certo importante per in questo caso la ricostruzione del testo però c'erano postille integrazioni di mano umanistica piuttosto interessanti aveva una provenienza importante siciliana di questo senatore Guarneri ed è finito di nuovo in Sicilia la cosa bella è che l'amministrazione comunale all'epoca si mosse per tempo partecipò all'asta riuscì come vedete dai 12 mila euro salì molto il manoscritto ai 43 mila euro riuscì ad acquistarlo e riportarlo in Sicilia perché stavano ricostituendo il fondo di questo senatore Guarneri palermitano della fine del XIX secolo la sua biblioteca quindi ci sono anche queste azioni meritorie da parte in questo caso dell'amministrazione non pubblica nel senso era sì pubblica ma civica in qualche modo la città di Palermo voleva ricostruire questo fondo la biblioteca all'epoca diretta il direttore si chiamava Guttuso si mosse per tempo e vennero a partecipare all'asta compararono l'oggetto e lo portarono in Sicilia il giorno stesso proprio perché volevano ricostruire questa biblioteca del senatore questo è un umanista onofrio pambino ma insomma forse passerei oltre questo è uno dei capitoli più importanti adesso il tempo forse tiranno non riusciremo a parlare a lungo di questo volevo però provare a vedere se riesco a farvi a passare a switchare a questo a un altro testo vediamo se riesco a un'altra presentazione tanto per darvi semplicemente un'idea allora secondo soltanto che ecco ritorniamo a un'altra presentazione comunque si dovrebbe sempre vedere sul vostro schermo per darvi un'idea perché questo sicuramente in 26 anni di onorata carriera come si potrebbe vedere è stato il colpo della vita quello che capita una volta nella vita e cioè il ritrovamento dell'officiolo di Francesco da Barberino che è un manoscritto trecentesco profusamente illuminato quindi anche bello esteticamente con queste immagini che vedete questa che ho ripreso l'ho ripresa dal facsimile che ha realizzato la Salerno editrice qualche anno fa con un volume di studi affiancandolo oltretutto con una legatura quella che si vede rossa che non è la legatura originale in velluto rosso ma non era assolutamente così la legatura originale però questo dà un breve senso della cronistoria l'aprile del 2003 il codice arriva alla Cristis ma arriva in modo del tutto anonimo con un signore che tira fuori dalla tasca della sua giacca una carta di giornale in cui è ravvolto questo manoscrittino piccolo perché è un formato ottavo insomma poco più di 10-12 cm di altezza piccolino viene studiato il mese dopo da Kay Sutton la compianta era la mia collega della Cristis di Londra che appena vede le immagini salta sulla sedia perché capisce subito che è stato fatto un ritrovamento importante nell'agosto del 2003 dopo 2-3 mesi di studio lei riesce ad attribuire la committenza a capire che è l'officiolo perduto di Francesco da Barberino un notaio fiorentino di parte Guelf amico di Dante eccetera eccetera però la storia in parte è nota tra settembre e ottobre organizziamo un piccolo tour italiano nel senso che lo mostriamo in varie parti a Bologna a Padova a Milano fa un piccolo giro e il 5 dicembre 2003 poi viene messo in asta viene venduto in quel caso lo Stato non arriva ad acquistarlo perché siamo già in quel momento cronologico in una fase davvero critica per il Ministero viene venduto a una cifra notevole è la cifra per ora più alta per un manoscritto ma anche per un qualsiasi libro in Italia cioè 840.000 euro più di 800.000 euro ed è un record assoluto per un manoscritto ma è dovuto all'importanza di questo di questo codice qui in modo molto sintetico cerco di cercavo insomma cerco di darvi alcuni dati questa sono slide che ho utilizzato questi sono i dati codicologici per quanto riguarda il codice che è scompleto mancano alcune carte non lo vediamo però scusami no siamo rimasti scusami c'è vedete la pagina officialum dati codicologici testo no siamo rimasti alla vecchia all'immagine di prima no devi togliere la condivisione e condividere l'altra ah allora interrompi condivisione no allora questo questo si vede eccolo ora si ok scusatemi allora eccolo qua allora questa è l'immagine del facsimile questa è la breve sintesi che vi accennavo questo è lo schema diciamo schema insomma i dati così identificativi del manoscritto 67 miniature interessano 70 carte su 174 ripeto ci sono state delle perdite comunque la datazione è sicuramente perché noi abbiamo una serie di indicazioni interne ed esterne ma soprattutto esterne di Francesco da Barberino realizzato a Padova tra 1304 e 1309 a ridosso della Cappella degli Scrovegni perché sicuramente i miniatori che lavorano lavorano anche alla Cappella degli Scrovegni quindi lavorano a fianco di Giotto insomma sono quindi è il più diretto esempio della lezione di Giotto agli inizi del 300 trasmessa in un codice quindi la sfilza che vedete Francesco da Barberino Giotto e Dante sono tutti nomi realistici nel senso che Giotto era era Padova in quel momento realizza la Cappella di Scrovegni e le miniature risentono fortissimamente insomma della lezione di Giotto e Dante Dante lo frequenta nella postilla Barberiniana del 1313 la prima attestazione di Francesco da Barberino della circolazione dei primi canti dell'inferno vi faccio vedere un po' di immagini ma insomma senza grande presentazione per farvi capire la bellezza e la ricchezza del codice in coronazione della Vergine questo è lui che si ritrae sicuramente Francesco da Barberino è un libro d'ore un libro d'ore che chiaramente ha la struttura del libro d'ore canonica Sant'Anna la Vergine Gesù Giuseppe Dormiente che è assolutamente iconograficamente simile al giochino degli Scrovegni poi c'è l'Annunciazione c'è questa stupenda doppia pagina con la crocifissione a sinistra i colori non rende quanto siano vivi quanto sia vivo loro quanto sia vivo questo azzurro celeste ma insomma poi i particolari anche in dimensioni ridotte perché poi ecco questa che vedete è la legatura originale che è una pergamena rigida ma molto povera questo è il Cavaliere con lo stemma di Siena e poi alla fine ci sono addirittura doppie pagine che comunicano tra loro quindi con una capacità anche inventiva straordinaria iconograficamente perché le due pagine spesso l'immagine passa da una pagina all'altra insomma comunica tra loro questa è forse una delle più interessanti ma anche più intriganti dal nostro punto di vista o meno dal punto di vista non degli storici dell'arte e della miniatura ma degli storici della letteratura in quanto questa immagine sembrerebbe una delle prime attestazioni del libro dantesco quindi un fuoco che mi spedio di tenebre vincia e questo esattamente c'è indicato nella didiascalia l'imbus eppure qui insomma gli studiosi più o meno concordano ma anche ci sono voci discordanti sul fatto che possa veramente trattarsi a quell'altezza cronologica cioè tra 1304 e 1309 come la prima attestazione Francesco da Barberino conosceva Dante si frequentavano perché erano entrambi tra il padovano e il trevigiano lui lo testimonia nella postilla barberiniana perché non immaginare e pensare che avesse letto anche Inferno IV e quindi avesse dato indicazioni a questo miniatore di raffigurare il limbo esattamente come ce lo racconta Dante insomma quindi la suggestione è forte e qui abbiamo addirittura un'immagine di cerchi infernali pure qui i nomi sono Dante ma potrebbe anche essere Guglielmo di Conch quindi insomma ci sono poi varie ipotesi e io devo dire onestamente non ho più seguito gli studi che sono stati fatti su questo manoscritto sono ben felice di averlo ritrovato di averlo dato a disposizione degli studiosi ma poi ho perso le tracce però ecco come vedete qui ci sono delle immagini fortemente dantesche se vogliamo definirle così e poi c'è un'allegoria finale molto molto particolare un sogno una visione qui faccio scorrere le immagini perché altrimenti sarebbe l'una però ci sono animali fantastici c'è un po' di tutto c'è un po' di tutto c'è lui che combatte con un libro c'è questa specie di fiera questa bestia eccetera eccetera con le scene finali ecco queste dove addirittura le due miniature affrontate da una pagina all'altra comunicano tra loro vedete questi fili che partono insomma è un manoscritto strepitoso insomma da un punto di vista proprio dell'impianto tenete conto che durante l'esposizione nel dicembre di quell'anno del 2003 noi avevamo ricevuto visite dal Canada dal Nord America da tutta Europa di studioci di storia dell'arte medievale questo ritrovamento per loro era un tassello fondamentale proprio per capire anche e soprattutto la diffusione della lezione di Giotto a quell'altezza cronologica quindi era un aspetto importantissimo per loro importantissimo da capire allora vediamo se ritorniamo invece alla condivisione del del no non è questo l'altra condivisione perdonate ritorniamo indietro interrompi condivisione torniamo al è questo qua ok e sì insomma sono quasi 50 minuti forse chiamo di andare avanti più velocemente Dino Campana saltiamo dal 300 più profondo fino al 900 questo è il ritrovamento del più lungo giorno che sarebbe i canti orfici il primo titolo dei canti orfici è il più lungo giorno Marra di 1913 manoscritto autogrofi qui c'è tutta una vicenda leggendaria dietro relativa alla perdita del manoscritto da parte di soffici e poi insomma il ritrovamento tra le carte di soffici insomma c'è tutta una storia romanzesca però effettivamente poi scompare nel nulla e risalta fuori nel 2004 nel cassetto di un notaglio palermitano l'ultimo ramo della famiglia Campana era confluito a Palermo e questo notaglio palermitano mi chiama mi dice guardi forse c'è un manoscritto importante io non ne capisco nulla venga a vederlo ed era il manoscritto del più lungo giorno cioè dei canti orfici di Campana acquistato a 213 milioni mila euro scusate 213 mila euro dalla Maruccelliana di Firenze con il contributo decisivo ogni volta lo ricordo di Mario Luzzi del poeta perché io lo mostrei a Mario Luzzi che fu il primo a ritrovarlo negli anni 70 Mario Luzzi nel 2003 2004 quest'anno era quasi morì dopo un paio d'anni insomma era anzianissimo ma fu lui poi a scrivere a fare un'intervista a rilasciare un'intervista sulla Repubblica di Firenze dicendo beh insomma questo è un manoscritto che va comprato perché va comprato e va acquistato pubblicamente perché è uno dei capisaldi della nostra letteratura del novecento e in effetti poi una fondazione bancaria l'ho acquistato una cassa di risparmio di Firenze per poi depositarla alla Maruccelliana tralascia questo archivio di Lucio Fontana questo è l'archivio personale di Carlo Levi oppure questo molto importante perché ci sono note agende appunti incontri disegni perché poi ovviamente sappiamo che Carlo Levi fu anche forse principalmente un pittore e questo archivio è stato depositato nella casa museo di Alassio a disposizione degli studiosi c'era un po' tutta la sua produzione 117 mila euro questo è il prezzo e lì pure in questo caso per la sensibilità di un mecenate un mecenate un po' particolare però pure questa è una storia bella diciamo così a lieto fine perché il mecenate in questione è Ricci il regista di Striscia la notizia che ha una casa ad Alassio e che in quel momento decise proprio per Alassio perché il comune e lo stato non avevano disponibilità di fondi ma decise di comprarlo per depositarlo alla casa museo quindi un bel gesto per una persona ovviamente di grandi disponibilità finanziarie e economiche ma anche lui non un collezionista niente oltretutto non volle che la cosa fosse resa pubblica se non dopo aver predisposto una serie di cose e poi alla fine insomma ha reso pubblico che l'aveva comprato per donarlo alla casa museo di Alassio dove lui vive e quindi si sentiva in dovere di fare questo gesto e insomma quindi un bel gesto di un di un mecenate se vogliamo dattilo scritto di Calvino quest'anno se entriamo nell'anno di Calvino appunto con le celebrazioni che si terranno nel 2023 questo è un dattilo scritto originale sono molto molto rare le carte di Calvino perché sono detenute dalla famiglia e soprattutto dalla moglie concita che è morta qualche anno fa aveva un po' tutto quello che era uscito però insomma ogni tanto qualche lettera poteva uscire fuori questo è un dattilo scritto molto interessante con correzioni di una commedia giovanile la commedia della gente siamo nel 1943 Calvino a un certo punto della sua vita giovanissimo tra i 16 e i 20 anni lui dice sognavo di diventare uno scrittore di teatro e questa è una delle sue primissime testimonianze cioè prima di queste di scritti di Calvino la stessa concita parlava solo di un'altra commedia scritta a 16 anni e questa commedia poi partecipa ad un concorso c'è tutta una storia dietro questo è il dattilo scritto con le correzioni di Calvino quindi piuttosto importante interessante acquistato per 17 mila euro dalla moglie di Calvino cioè da concita lei stessa partecipò all'asta proprio per non disperdere il materiale del marito lo ricomprò lo comprò non lo ricomprò scusate lo comprò e lo mise nel fondo calviniano che come sapete adesso è finito tutta la nazionale di Roma adesso abbiamo tutto tutto a Roma nella nazionale questo è un esercizio filologico giovanile di Leopardi un codice di Perugia delle lettere di Winkelmann e questo è l'altro grande pezzo diciamo così nella mia ormai lunghetta carriera carriera nel mondo delle aste e cioè il ritrovamento di quelle che sono le prose della volgarlingua nell'esemplare di Pietro Bembo quindi con tutte le sue correzioni e postille era in una collezione privata milanese dove gli eredi ovviamente non immaginavano né l'importanza né cosa fosse c'erano delle piccole tracce nei fogli di guardia ma insomma pure qui necessitava dell'intervento di un filologo di un paleografo di studiosi di Bembo io non ero non sono uno studioso rigorosamente di Bembo però pure in questo caso qui vi faccio vedere alcune pagine di fronte alla presenza i fitti interventi di revisione adesso sono poche le pagine che ho riprodotto ma di fitti interventi di revisione e correzione di una mano cinquecentesca che correggeva che osava correggere Bembo insomma a me il sospetto era venuto insomma sapendo il valore di autoritas che aveva Bembo in quegli anni insomma il fatto che qualcuno osasse appunto intervenire sul testo delle prose mi suonava sospetto e proprio in quei giorni lo racconto l'ho raccontato tante volte avevo un'esposizione perché è collezionista Gino Belloni Gino Belloni insegna a Padova conosceva bene la mano di Bembo conosce bene la mano di Bembo e nel giro di pochi giorni mi ha telefonato e mi ha detto guarda Fabio per me è assolutamente è assolutamente Pietro Bembo e a seguito di questo poi adesso non vi mando le immagini ma insomma la storia poi è andata avanti i collezionisti in questione mi hanno dato il libro gli ho chiesto guardate prima di pensare in un'evaluettuale vendita questo libro va pubblicato cioè va fatto uno studio serie approfondito con persone non io ma insomma affiancato da altre persone i clienti in questione me l'hanno dato io mi sono ripresentato due anni e mezzo dopo con l'edizione a stampa pubblicata da Viella Bembo ritrovato ce l'ho qui tra le mani il postillato fotografo delle prose in cui Magna Pars l'hanno appunto Carlo Culsoni e Marco Cursi insomma sono i due che mi hanno non aiutato ma insomma che hanno scritto la gran parte del lavoro che hanno lavorato sull'aspetto paleografico sull'aspetto poi più filologico e testuale cioè Carlo e Marco Cursi due grandi amici dell'epoca dell'università io ho curato la parte introduttiva un po' per raccontare la storia di questo oggetto anche per spiegare la presenza di questa bella legatura a cofanetto e tanti altri aspetti ma insomma poi nel cuore della vicenda sono entrati Carlo e Marco è stato acquistato poi non è passato per l'asse è stato acquistato dal ministero è depositato all'archivio di stato di Venezia e tra l'archivio di stato e la nazionale marciana diciamo che tecnicamente è considerato un bene archivistico quindi è presso l'archivio ma poi insomma è in deposito presso la nazionale da un certo tempo però ecco si trova facilmente e si può consultare a Venezia ed è ovviamente estremamente importante perché è l'esemplare delle prosie che accompagna Bembo per tutta la sua vita fino alla morte fino all'ultima redazione è sul suo tavolino c'è l'indicazione eccola qua questa che vi faccio vedere a D. 21 d'agosto il cardinale Addighello passò dalla presente vita nel saldolore ora in Roma nella casa di Boldassino nel quale era morto il cardinale Bembo quindi il libro è poi un coacervo di testimonianze dei passaggi ma poi quello che sappiamo per certo è che accompagna Bembo fino alla morte quindi le sue c'è una stratificazione di revisioni di postille di interventi che Marco Cursi ha studiato benissimo e ha stabilito e ha riuscito pure a datare ovviamente preziose per gli storici della lingua perché si capisce come il pensiero di Bembo sia assolutamente in evoluzione cioè dal 25 la lezione codificata nelle prose non è una lezione in peritura ma viene modificata Bembo ci ripensa scrive aggiunge corregge sia per le edizioni successive ma molte cose non vengono incluse nelle edizioni successive delle prose e forse sono le più interessanti perché sono i ripensamenti di Bembo i suoi dubbi le sue incertezze o le sue revisioni in corso d'opera insomma visto che parliamo del padre della nostra lingua insomma questo testimone era importante e giaceva vi ripeto in una biblioteca anonima milanese in un normalissimo appartamento insieme ad altri libri più o meno importanti ma insomma ecco l'importanza di questo esemplare era in commensura ovviamente più alta tenete conto che un esemplare delle prose si compra sul mercato a 2, 3, 4 mila euro questo in particolare è stato venduto allo Stato a 120 mila euro che non è un prezzo esagerato tenendo conto dell'importanza del testimone ma insomma ecco sempre per il discorso che vi facevo prima del risvolto economico e commerciale che questo tipo di studi possono produrre qui è ancora indicato come collezione privata ma ovviamente non è più in collezione privata tralascio quello che compare sul mercato ma che è poi interessante per qualsiasi studioso nel mondo questa è una lettera straordinaria di Edgar Allan Poe una lettera ritrovata in Italia è una parte sono quattro carte ma l'altra parte si trova a Boston per uno strano motivo è stata scorporata ma questa parte di cui si ignorava l'esistenza ovviamente doveva esserci perché l'altra parte non terminava questa è stata ritrovata casualmente in Italia è stata messa da me in asta è stata comprata ed è ritornata in America da una grandissima collezionista americana che l'ha messa a disposizione per gli studiosi di Poe e nella lettera si contengono contiene progetti nuovi eccetera eccetera oltretutto è straordinariamente importante perché è scritta da Edgar Allan Poe un mese dalla morte quindi è una specie di suo testamento per certi versi di progetti che poi non realizzerà più perché come sapete lo troveranno alcolizzato al ciglio di una strada morto per i vari problemi fisici che aveva e per i curiosissimi strani percorsi del collezionismo era finita in mano ad un collezionista ma poi ad un erede di un collezionista in Italia ma pure questa ha una sua grande importanza e finiamo forse con le ultime cose ancora cinque minuti qui abbiamo un garetti un grande grande carteggio manoscritti lettere ma insomma molto materiale è rimasta ancora in mano agli eredi perché fino a ormai è mancato due mesi fa era ancora in vita il genero di un garetti quello che aveva sposato la figlia di un garetti e viveva a Roma quindi per una serie di strani pure qui casi questo signore si è presentato nella casa d'aste che allora dirigevo si chiama Minerva Auctions questa che vedete in alto adesso mi occupo dello stessa cosa ma presso finarte io e questo signore si è presentato per altre ragioni molto tutto non si è neanche presentato come il genero di un garetti ma si è presentato col suo nome e cognome ovviamente mi ha illustrato delle cose aveva delle pitture aveva dei dipinti e poi parlando mi ha spiegato che tutte queste opere provenivano da Giuseppe Ungaretti e ho andato a trovarla a casa e a casa ho avuto la sorpresa che a casa sua nonostante la donazione grossa e importante fatta al VSE dalla figlia molti anni fa erano rimaste ancora centinaia di carte di Ungaretti più o meno importanti qui vedete sulla sinistra un intero intervento su Gadda poesie riscritte c'era veramente c'era parecchio non tutto ma c'era tanto tanto ancora di pugno di Ungaretti e insomma ovviamente l'ho convinto a venderle questo materiale d'accordo con la figlia il signore in questione è morto a 94 anni due mesi fa il genero di Ungaretti ma negli ultimi due anni l'ho frequentato abbastanza spesso perché non solo questo ma anche altro materiale è uscito da casa Ungaretti ed è stato acquistato dalla Nazionale di Roma questo qua è adesso in deposito tutto questo fondo alla Nazionale di Roma per 125 mila euro così come la Nazionale di Roma ha acquistato i taccuini di Gadda taccuini di guerra di recente oggetto dell'edizione critica insomma sono stati pubblicati diversi articoli da parte di Paola Italia che è una delle nostre migliori filologi italiane Paola Italia li ha studiati li ha studiati quando uscirono glielo ho segnalati nel momento in cui l'ho posto in asta sono stati poi acquistati dalla Nazionale di Roma e ne ha fatto adesso l'edizione critica integrale che includeva i taccuini di guerra di Caporetto ma poi tutti questi perché parliamo di se non ricordo male 11 taccuini inediti trovati pure qui insomma per vari percorsi del collezionismo e non considerati da Dante Sella mai pubblicati quindi molto molto interessanti adesso c'è quest'ottima edizione a Delphi pubblicata da Paola Italia che non sarà uscita neanche un mese fa e gli originali però sono in Nazionale a Roma 37.500 euro insomma Gadda riscuote un certo successo ma in ogni caso ecco in questi casi non si può neanche parlare di asta perché in questi precisi casi Ungaretti Gadda sono io il primo in quanto responsabile di questo settore di autografi di libri di manoscritti a ritirarli dalla vendita a proporli direttamente al ministero alle biblioteche quindi è un'operazione che per ritornare al versante filologico cioè all'altra mia veste di studioso è un'operazione che faccio ben volentieri convincendo i clienti di evitare la vendita all'asta quindi la possibile dispersione ma di proporre ovviamente concordiamo un prezzo che io ritengo congruo per tutti quindi un valore economico e commerciale poi glielo do io questi oggetti e d'accordo poi con il ministero d'accordo con le biblioteche che vengono acquisiti direttamente da loro e ritirati dall'asta insomma questo mi sembra il mio personale contributo allo studio perché in fondo ha dato tanto a me insomma e spero che continui a dare questa è una pagina di Primo Levi una singola pagina di Primo Levi di Sequestra e un uomo come vedete il prezzo sono 18.500 euro Primo Levi è uno degli autori più collezionati e richiesti e ricercati ma anche con la sua prima edizione di Sequestra e un uomo edizione a stampa questa è una rarissima prima paginetta donata da Primo Levi a una sua carissima amica ieri mi hanno chiesto di venderla ed è anche questa in nazionale a Roma è più che altro un cimelio perché parliamo di una singola pagina il retto e il verso quello che vedete però anche qui vedete ci sono correzioni revisioni interessanti sempre per ricostruire un'opera che ha segnato del novecento questo è il grande fondo di Grazia dell'Edda un'autrice forse troppo presto dimenticata ma il nostro premio Nobel del 1927 il primo premio Nobel a letteratura lo vince in Italia una donna nel 1927 e qui ho citato una frase molto bella ma insomma il carteggio includeva il fondo includeva una quantità immensa di corrispondenza ma anche tutte le sue opere più importanti e qualche dipinto quello che vedete sulla destra è un bellissimo quadro di Plinio Nomellini che ritrae la deletta ovviamente insomma a un certo punto diventa celebre e famosa sempre più celebre e famosa ma poi insomma non fosse altro per il premio Nobel e questo enorme fondo anche questo è finito alla Nazionale di Roma questo invece è un fondo che riguarda un pittore dovrebbero essere proprio l'ultimissima slide riguarda Fabrizio Clerici Fabrizio Clerici è stato un personaggio un intellettuale molto importante forse come pittore relativamente noto ma è una figura che teneva contatti con Cocteau questa foto che vedete con Jean Cocteau e con tanti al titolo di francesi forse era il nostro intellettuale più famoso intorno agli anni 50-60 anche in Inghilterra in Francia frequentava ambienti giusti letterari e questo era il suo archivio è gran parte del suo archivio questo è finito alla Gnamma la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma dove hanno un fondo importante di archivi d'artista che includeva in questo caso anche qui centinaia di pagine di corrispondenza con tutti i più grandi autori non solo ovviamente pittori ma anche moltissimi intellettuali e scrittori quindi grande fondo questo di Fabrizio Clerici questo è Lungaretti vi dicevo un'altra cosa uscita fuori sempre da casa Lungaretti un ampio saggio 26 pagine manoscritte sul canto primo dell'inferno una delle poche cose che Lungaretti scrive su Dante perché Lungaretti proprio dichiara che affrontare Dante per lui è una cosa tremenda e terribile insomma e quindi ha ovviamente il timore di affrontare di affrontare Dante e questo però è un saggio importante che poi viene pubblicato edito ma questo è il manoscritto originale sempre compostile lettera di Giacomo Leopardi pure qui interesse leopardiano enorme da parte dei collezionisti questa è entrata a far parte delle collezioni sempre a Napoli della biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III una lettera interessante ma insomma diciamo di lettere di Leopardi e se ne trovano e hanno un valore mediamente alto 8.000 10.000 15.000 insomma sono le più richieste dal mercato e questo dovrebbe essere forse l'ultima slide e c'è un sonetto di Tasso anche questo è uscito fuori dal collezionismo conosciuto quindi non inedito ma non avevamo l'originale non avevamo solo trascrizioni ottocentesche questo è l'originale in una raccolta particolare messa insieme da un collezionista inglese alla fine dell'Ottocento proprio per la passione che poi nel romanticismo matura nei confronti di Tasso e in questo caso è stata venduta 36.000 euro la nazionale di Napoli sempre dove c'è il fondo tassiano più importante però insomma era un testimone un testimone importante direi basta sì queste sono altre cose finale quindi grazie di avermi ascoltato e lo so grazie a te davvero grazie mille sia per la conferenza sia per il lavoro che svolgi con sensibilità filologica credo che tu oggi abbia dimostrato proprio questo quanto sia importante per il mercato e anche per ovviamente la cultura in generale avere una sensibilità filologica come quella che possiedi proprio perché hai permesso che non andassero disperse in collezioni private certe opere ma anche perché sei stato in grado di riconoscerle a me personalmente ha colpito un po' una cosa che hai detto riguardo alle leggi di mercato che determinano il prezzo abbordabile tra virgolette di taluni manoscritti trecenteschi che ovviamente poi fa sì che questi manoscritti vengano esposti anche ad atti di vandalismo però lascio che siano gli altri a parlare e intervenire se lo desiderano sì buonasera 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 allora grazie per questa meravigliosa lezione molto appassionante e grazie davvero per tutto quello che ha detto che va poi proprio ad unirsi con tutto quello che ci dice e ci racconta la professoressa Rossi per cui grazie davvero volevo chiedere due cose la prima è per favore l'ufficialo di Francesco da Barberino da chi è stato acquistato allora è stato acquistato da un privato da un privato che adesso è morto quindi da un privato che aveva grandi disponibilità finanziarie ovviamente per spendere 860 mila euro però questi codici si sa chi l'ha comprato adesso io pubblicamente preferisco non dirlo si sa chi l'ha comprato perché le leggi italiane diversamente da molti altri paesi nel mondo prevedono un istituto che si chiama notifica cioè l'indicazione dell'interesse notevole di un determinato oggetto in questo caso di un manoscritto ma può essere anche per un libro che cos'è la notifica significa che il ministero appone su quel bene un'indicazione di notevole interesse storico-culturale lo studioso che ha interesse che vuole studiarlo sapendo ovviamente che è stato notificato certo non è così facile può fare richiesta al ministero di mettersi in contatto col proprietario e il ministero è tenuto a dare fa parte di queste regole scritte esistenti a dare l'identità del proprietario e anche l'ubicazione del bene il ministero deve sempre sapere per i beni notificati dove si trovano perché un manoscritto del genere è un manoscritto che è di proprietà di un singolo ovviamente di un individuo ma in qualche modo ha una proprietà collettiva culturale perché appunto ha un interesse nazionale quindi questo manoscritto al momento attuale si trova a Milano si trova a Milano in una casa milanese questo collezionista è morto ovviamente ce l'hanno gli eredi l'ha esposto in diverse occasioni quindi è stato già esposto in varie mostre è stato utilizzato per farne un facsimile però gli studiosi che vogliono possono fare richiesta alla sovrintendenza di Milano anche al BIPAC e chiedere se è possibile mettere in contatto e studiarlo quindi la disponibilità certo poi sta alla discrezionalità la disponibilità del proprietario ovviamente può aprire con orari da biblioteca a casa sua ma insomma ci si mette d'accordo e questi collezionisti importanti danno la disponibilità di studiare il bene magari lo depositano in una biblioteca per il tempo necessario ecco utilizzano sistemi diversi la ringrazio tanto più che altro perché va poi ad intersecarsi con la ricerca che sto facendo per il mio progetto di dottorato per cui grazie anche per i raguagli circa insomma i vari contatti se mi scrive se mi scrive se mi scrive un'email personalmente le dico chi è il proprietario e come fa questo non si preoccupi nel senso è noto a molti studiosi insomma non c'è problema scrivere adesso preferisco non dirlo pubblicamente ma insomma ecco non è non è una persona nota totale è morto insomma quindi però ecco ecco era una persona illuminata e ha messo subito a disposizione il manoscritto per tutti e poi volevo anche chiedere se durante la sua attività ha mai trovato e venduto anche degli autografi di Francesco De Santis allora di Francesco De Santis sì forse qualche cosa mi è capitato qualche lettera mi è capitato ho conosciuto il pronipote che si chiama pure lui Francesco De Santis che mi sembra che organizzi e che tenga in piedi la fondazione non sono frequenti non sono frequenti però tenga conto che ecco questo questo tipo di collezionismo cioè il collezionismo di grandi eruditi insomma che ovviamente alla nostra percezione attuale almeno percezione di studiosi sono personaggi che hanno un peso e un ruolo non è così fiorente non è così sviluppato quindi questi sono nomi che a noi suonano suonano molto sono ovviamente capisaldi ma che normalmente i collezionisti medi neanche conoscono quindi il fatto di conoscerli pochi insomma l'oblio intorno a certi nomi è il rischio peggiore per i manoscritti e per gli autografi perché io lo dico sempre e questo è il grande rischio questo è il grande rischio perché io ho visto autografi straordinari importanti in casa di collezionisti che ignoravano di averlo perché semplicemente non sapevano chi fossero appunto un desantis o un muratori o via dicendo e chiaramente vuol dire che a generazione in generazione magari erano autori collezionati agli inizi del secolo alla fine del settecento alla fine dell'ottocento ora più andiamo avanti più scomparirà l'attenzione anche collezionistica nei confronti di questi autori e purtroppo scompariranno gli autografi perché poi quello è il destino ahimè però il mio progetto di dottorato verte proprio sul trecento all'interno della storia della letteratura italiana di Francesco De Santis e quindi insomma ero interessata a questo aspetto ecco anche del collezionismo e riflettevo proprio su quello che ha detto lei perché effettivamente è una figura che alleggia ecco un po' nell'oblio ed è insomma triste è triste questo è direi grossa responsabilità a volte c'erano anche gli eredi questo bisogna poi ovviamente dirlo da un certo punto di vista gli eredi per noi sono i primi fornitori chiamiamoli così insomma sono le persone che poi proponendoli sul mercato per carità se vanno in asta l'asta è pubblica e quindi succede spero insomma molto spesso è successo queste situazioni virtuose in cui questi oggetti siano stati comprati e venduti a istituzioni pubbliche ma molto spesso gli eredi distruggono cioè io non dovremmo stare qui un'altra ora a raccontarvi i casi di dispersioni di biblioteche importanti a cui ho assistito perché magari sono riuscito a rintracciare solo un piccolo la parte di un fondo che è finito nei cassonetti ma letteralmente nei cassonetti parliamo ovviamente di autori del novecento di biblioteche più o meno importanti ma di autori anche importanti gli eredi sono come gli dico sempre sono la prima e la più pericolosa gli attura per questi per questi autori per questi autori e artisti importanti perché purtroppo se non hai a che fare con eredi sensibili o comunque consapevoli o quello che è il rischio di dispersione e distruzione è immenso insomma è enorme grazie e grazie anche perché ci ha trasmesso la sua passione io immagino lei quando trova questi documenti li maneggia li osserva li annusa anche perché poi c'è tutto il discorso della cara insomma della pergamena cioè io posso solo immaginare che meraviglia allora il lato bello di questo adesso perché mi trascina poi soprattutto non vorrei togliere tempo ad altri su questi aspetti è effettivamente che io non conto un giorno diverso dall'altro insomma in questi 27 anni in cui mi sia mai annoiato perché prima di parlare con voi due ore fa avevo ricevuto una persona che mi ha portato una decina di manoscritti alchemici esoterici dalla fine del 600 alla fine dell'800 è uscito lui e ha avuto un signore che aveva edizioni futuriste è veramente e ieri ho passato la giornata a Napoli dove ho venduto abbiamo venduto e consegnato un importante fondo di Gino Doria importantissimo intellettuale amico di Croce insomma che avevo studiato nei mesi passati e che hanno acquistato adesso nel pomeriggio ieri mi hanno presentato un manoscritto con statuti e leggi della Transilvania della seconda metà del 600 sconosciuto e tutto da studiare è vero insomma sì il bello è sicuramente questo insomma che non non ho abbandonato l'insegnamento e questo mi dispiace perché sicuramente mi dispiace moltissimo aver perso il rapporto con gli studenti però per fortuna non ho perso il rapporto con la ricerca attiva e con il contatto quotidiano con libri e manoscritti importanti questo è una grande fortuna di questo lavoro insomma quando spiego ai giovani che è bello farlo e c'è anche molto spazio in Italia da un punto di vista proprio economico e commerciale lo spiego in questi termini c'è il fatto che è un'esperienza che quotidianamente si rinnova ogni giorno in tutte le direzioni possibili dal 300 fino al 900 grazie grazie davvero prego prego a me è arrivata una domanda diretta via chat te la faccio la leggo pare che il governo italiano stia per modificare alcune regole del mercato dell'arte in Italia sia per essere più vicine per uniformare queste regole a quelle europee e internazionali sia per favorire si dice gli operatori italiani vorrebbero chiederti che cosa sta accadendo nella realtà se si va verso qualcosa che favorisce solo un incremento del mercato in Italia o di oggetti italiani o si rischia anche che il patrimonio culturale italiano venga in parte depauperato allora no domanda molto precisa anche questa richiederebbe lunghi tempi il mercato italiano è il più controllato che esista al mondo e questo anche per l'ovvia e giusta e comprensibile ragione che abbiamo detta dell'UNESCO e di tutti gli organismi internazionali il patrimonio artistico più importante e questo è in dubbio di contro esistono in Italia delle leggi e una di queste è quella che vi ho citato prima cioè la legge che prevede la notifica il vincolo sull'oggetto e sul bene che sono state partorite ed elaborate per carità con tutto il rispetto per chi le ha pensate e immaginate negli anni 30 quindi sotto il regime non proprio l'altro ieri e che ovviamente non riflettono più quella che è la realtà e la dinamicità del mondo attuale io vi faccio solo un piccolo esempio ma è un esempio che poi ha fatto tante volte Umberto Eco che come sapete molti di voi era un grande collezionista Umberto Eco aveva una casa a Milano aveva la sua casa a Parigi se Umberto Eco decideva un giorno qualunque della sua vita di portarsi dietro la prima edizione del dottor Zivago la prima edizione ma ne so dei canti di Leopardi una cosa dell'ottocento da Milano a Parigi commetteva un reato penale perché qualsiasi oggetto e opera che abbia più di 50 anni in Italia per poter essere per uscire fuori dai confini nazionali deve essere dotata di una licenza di esportazione adesso si chiama attestato di libera circolazione ma il senso è quello quindi il signor Umberto Eco alla frontiera di Parigi ma anche con un topolino degli anni 30 rischiava un reato penale cioè non si scherza e raramente qualche volta è successo è successo magari all'Ibraio o ad altra gente è ovvio che tutto questo è anacronistico cioè se io possiedo una casa a Londra o a Parigi non posso più trasferire la mia biblioteca non posso spostare nulla o meglio devo chiedere un'autorizzazione l'autorizzazione richiede dei tempi lunghi eccetera eccetera queste leggi cercano di snellire le procedure soprattutto snellire le procedure di esportazione il che vuol dire che le procedure di esportazione esisteranno comunque e ovviamente vincoleranno all'Italia dei beni che non possono essere esportati che non possono uscire che quant'altro ma è evidente che in un mercato così dinamico dove effettivamente se uno adesso in questo momento si collega ebay o katawiki compra da qualsiasi parte del mondo un manoscritto lo rivende lo sposta chiede di venderlo e probabilmente qualcuno te lo consegna senza conoscere niente di queste leggi beh in un mondo così dinamico qualcosa ovviamente deve cambiare in realtà sta cambiando ma sta cambiando sotto il controllo della direzione generale bene archivistici e bene di Prari quindi in Italia hanno introdotto delle soglie di valore ad esempio 13.500 euro adesso è la soglia di valore al di sotto della quale si possono esportare dei libri segnalando chiedendo l'autorizzazione ma è un'autorizzazione che avviene in via telematica si segnala l'oggetto eccetera e nei casi in cui perché non è poi un discorso solo di valore ma un discorso culturale ci può essere un libro che vale sotto 13.500 ma ci può essere un qualsiasi libro culturalmente importante che vale 100 euro non è il discorso economico quello che conta e quello bene non viene non viene reso esportabile quindi la legge italiana sta cambiando in questo senso sta cercando di adeguarsi a normative europee che sono estremamente più larghe ma ovviamente secondo me ancora con la saggezza di alcuni insomma di molti legisti italiani che comunque ovviamente cercano di contemporane esigenze di mercato ma anche esigenze di tutela per cui non sarei preoccupato per nulla da nessun punto di vista per i rischi che ci sono noi rispettiamo delle leggi e sono certamente un limite all'apertura del mercato perché il mercato italiano potrebbe essere al pari della Francia dell'Inghilterra di qualsiasi altra nazione è un mercato come volume di vendita estremamente più ridotto esattamente per queste ragioni perché i limiti ci sono e nessun governo potrà mai pensare di liberalizzare il tutto perché comunque non avrebbe l'appoggio culturale e politico per realizzare una liberalizzazione alla fuori tutti quindi questo lo sappiamo noi operatori del settore però si possono fare delle piccole trasformazioni per rendere più praticabile ecco la circolazione di opere di un stesso proprietario che vuole magari leggersene a Parigi o a Londra grazie mille vedo che Lucinia speciale vuole intervenire hai alzato la mano Lucinia è vero infatti infatti perché su questa cosa forse posso aggiungere una parola perché in effetti c'è un adesso io non ho letto ho letto solo l'anticipazione di stampa delle dichiarazioni del sottosegretario Sgarbi sulla liberalizzazione quindi non ho in mano un testo di legge Sgarbi ha detto che vuole portare la libertà di esportazione a circa 100 anni e insomma abbattere di fatto proprio quel sistema di vincolo che ha fatto sì che in Italia forse rimanessero più cose però cioè come sempre c'è nel regime di vincolo che è previsto dalla legge 1089 che è rimasta comunque nell'impianto del codice dei beni culturali e che in minima parte tocca i libri o i manoscritti e tocca soprattutto il mercato dell'arte questo ha fatto quella legge con tutti i suoi diciamo con le sue faraginosità se vogliamo e con la scarsa efficacia che può avere con una diciamo struttura di personale molto ridotta come ha purtroppo il ministero della cultura oggi dei beni culturali qualche anno fa è certo che può essere un impaccio un intralcio al mercato però è anche vero che quella legge ha consentito di far rimanere in Italia moltissime cose se negli anni che vanno dal 1870 al 1913 è sparita dall'Italia praticamente quasi tutta la produzione dei primitivi che sono stati acquistati massicciamente dai collezionisti perché allora la pittura rinascimentale valeva meno e Caravaggio non lo conosceva nessuno se ci fosse stato allora un interesse antiquario su Caravaggio noi non avremmo Caravaggio distribuito nelle collezioni diciamo pubbliche italiane io ho ascoltato la lezione veramente con rapimento ringrazio tra l'altro lo dico apertamente io sono sinceramente preoccupata di quello che si sta delineando sulla sulla libertà di circolazione soprattutto perché non è ispirata alle ragioni del tutto condivisibili che ho sentito è ispirata a un altro principio che è quello della possibilità di mettere in vendita il primo novecento artistico italiano che è l'ultima parte della produzione contemporanea che ha un qualche valore sul mercato internazionale con cento anni cioè con 1923 e 2023 parte non parte burri ma parte tutto quello che è rimasto in giro di rechirico e di questo io mi preoccuperei perché fortunatamente i libri con tutto quello che di straordinario hanno non sono un genere particolarmente ricercato da noi quello che viene molto ricercato è la pittura naturalmente e la pittura diciamo è prevalentemente quella sì 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 sono d'accordo su tutto ovviamente vivendo in una casa d'aste vivo anche la realtà dell'arte contemporanea e so benissimo che queste pressioni nascono da quelle e so anche altrettanto bene che il grosso del mercato in termini proprio di volumi di vendite sull'arte contemporanea è chiaro che i libri sono marginali c'è una particolare attenzione sui libri è che non esiste in altri settori sui libri sui manoscritti sugli autografi esiste una sì particolare attenzione da parte del ministero però poi a onor del vero in molti casi quando appongono il vincolo acquistano quindi la mia esperienza degli ultimi anni è che gli acquisti ci sono che siano acquisti coattivi si dice nei casi in cui c'è la richiesta di licenza esportazione o che siano acquisti appunto come in questi casi fatti in asta notificando il bene e poi comprandolo però avviene certo è che no su questo sono d'accordo cioè sono consapevole che la tendenza vada dove va il mercato e quella fetta di novecento interessa al mercato internazionale le pressioni sono più forti mia personale impressione è che il buon Vittorio che conosco bene non ce la farà mai perché comunque non ha non ha i numeri non ce l'ha in Parlamento non ce l'ha nella sensibilità dei ministeri dei direttori generali delle sovrintendenze è una battaglia possibile quindi non riuscirà il rischio invece che molte cose siano trafugate illegalmente però ecco in questo caso mi preme a questo punto non sembro parlo quasi come un dipendente statale sia la bontà e l'intelligenza di molte sovrintendenze sia il lavoro straordinario che fa il nucleo di tutela dei carabinieri il nucleo di tutela dei carabinieri è una realtà che forse poco nota è una realtà che non recupera solo il vaso etrusco il vaso greco dal Getty Museum ma recupera una marea di cose in giro per il mondo impedisce traffici dalla letterina di D'Annunzio che hanno recuperato due settimane fa appunto al vaso milionario il nucleo di tutela è veramente una grandissima garanzia certo il fatto che esista il nucleo è perché poi esiste un mercato insomma è il discorso che diceva lei è giustissimo perché non esisterebbe un'attività così fiorente da parte del nucleo di tutela se non ci fosse il rischio di furti e di lecite esportazioni grazie grazie a lei assolutamente io ovviamente vi ringrazio molto per aver assistito a questa interessantissima conferenza e ringrazio Fabio per essere stato con noi speriamo di ritrovarti presto sì figuriamoci poi ecco ribadisco che il mio indirizzo email tu c'è là insomma se qualsiasi cosa curiosità interesse state studiando gadda bisogna di sapere se capita sul mercato qualcosa scrivetemi perché insomma è quello che faccio per ovviamente tutti colleghi ex colleghi docenti universitari studiosi posso chiederti di trattenerti solo un attimo alla fine perché volevo farti una domanda particolare sì 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 volentieri volentieri grazie mille e se Lucini anche può restare va bene volentieri Filippo anche allora io ringrazio tutto il pubblico e vi do appuntamento alla prossima conferenza grazie ancora grazie a tutti